Grazie a tutti. I personaggi che sono qua presenti li avete già conosciuti nella precedente trasmissione, comunque sono il dottor Francesco Polenghi, Don Mario e il dottor Rosati. Tutti questi personaggi sono già stati in India, hanno avuto una meravigliosa esperienza e vorremmo sapere in particolare da loro questa esperienza. Per cui chiederei prima di tutto a Francesco Polenghi, nel 77 tu sei andato in India e se puoi parlarci di questa tua storia, di cosa è successo, ma anche nei particolari. Va bene, io mi sono recato la prima volta nel 77, sono arrivato giù, mi sono seduto sulla sabbia mentre lui passava e ho visto, vi dico la verità, ero un po' scettico perché assolutamente la prima volta, anzi io direi che bisogna proprio essere scettici, scoprire, aperti alle ipotesi ma andare a vedere, controllare. Mi sono seduto, ho visto, sai baba che passava, la prima cosa che mi ha colpito è questo vestito arancione, questi cappelli così, ho pensato ma che strano che è così. Poi ho visto che lui raccoglieva questi messaggi che gli davano, aveva una parola per tutti, aveva una cosa per tutti e ho notato che c'era una grande umiltà nel fare tutto questo, che c'era una grande pazienza, tolleranza, disponibilità enorme e si sentiva qualcosa, quando lui passava si sentiva qualcosa proprio a livello interiore. E subito, io sono un occidentale, a quei tempi mi sono domandato una domanda egoista, perché fa questo? Subito ho pensato, lo fa per soldi, ma poi ho visto i poteri immensi che c'ha, che può materializzare qualsiasi diamante, qualsiasi cosa e stando lì sei anni, perché ho vissuto lì sei anni, ho capito che non lo faceva per soldi. Ma secondo Darshan che sono andato, mi sono seduto ancora, ho pensato lo fa per potere, poi ho capito che ogni potente, ogni presente, ogni sciente sentato non lo fa per potere. E ho osservato in questi sei anni che cos'è la giornata di Sai Baba, che cos'è la vita di Sai Baba. Sai Baba dice, la mia vita è il mio messaggio. La vita di Sai Baba è il servizio altruistico verso la società, verso il genere umano, sette giorni a settimana, 24 ore al giorno, con amore, compassione, miracoli, opere educative, perché c'è un intero sistema scolastico che ha messo in piedi, opere sociali, perché ha adottato 6.000 villaggi e fa delle cose meravigliose in India, amore, miracoli, risuscitare i morti, di tutto. Durante questo periodo ho capito che quello che avevo pensato all'inizio era totalmente sbagliato, era solo un'influenza del mondo occidentale e che invece quello che avevo vissuto, la mia esperienza, che poi ha maturato ancora di più, è proprio questo puro amore per la trasformazione del genere umano, per far capire a noi chi siamo noi, cosa facciamo qui, dove andiamo e qual è la ragione per cui noi siamo qui, perché noi viviamo in un contesto di perfezione, perciò c'è una ragione per cui noi siamo qui, e noi siamo qui per maturare, per scoprire il divino in noi, perché la nostra anima è una scintilla del divino, è parte del divino, noi siamo il divino. Ti ringrazio, questa esperienza è stata molto significativa per te, io sono, anche io sono stata in India e so che queste domande solitamente le rivolgono a me, per cui cerco di rivolgerle a te per documentare un po' i nostri telespettatori. Secondo te, quando Sai Baba dice di essere Dio, è presuntuoso? Quando dice che dentro di noi c'è Dio, in ognuno di noi c'è Dio, come vuole che noi siamo presuntuosi rispetto a questa... Io anche qui devo dire, è una domanda fantastica, devo dire che la prima reazione a questa cosa è esattamente questa, noi diciamo che presuntuoso dice che noi siamo Dio, perché se noi domandiamo a Baba tu sei Dio, lui dice sì sono Dio, ma sei Dio anche tu, io lo so, perciò posso fare miracoli, gestire, fare di quella di là, tu invece... Il tuo compito è scoprirlo. Poi, vivendo questa esperienza e capendo a fondo queste cose, ma che cos'è che ho capito? Che cosa vuol dire identificarsi con Dio, credere di essere Dio, capire che noi abbiamo qualcosa di grande dentro? Cosa vuol dire identificarsi con l'amore, con la pace, con la tolleranza, con le virtù, con la pazienza, con l'altruismo, essere meno egoisti, perciò vuol dire diventare santi, perciò è la cosa giusta da fare, non c'è nessuna presuntuosa, presunzione. Nel filmato che vedremo fra poco sarà possibile vedere come Sai Baba materializza della cenere sacra, ruota la mano e materializza la Vibuti. Vorrei chiedere a Don Mario che cos'è la Vibuti? E ci puoi spiegare bene... E la Vibuti, come verrà sicuramente spiegato anche dall'amico Rosati e Francesco, che hanno vissuto molto più di me da vicino questo fenomeno, è una cenere, cenere sacra, che viene materializzata costantemente da Abitudine, da Sai Baba. Quello che è importante notare è il significato che riveste questa Vibuti, che tra l'altro è un significato molto vicino a quello che ha la nostra, la cenere che viene usata il mercoledì delle ceneri, all'inizio della Quaresima. Direi che anche qui Sai Baba mi ha chiarito le idee perché dice che la Vibuti, questa cenere, egli la dispensa non solo a scopo taumaturgico per guarire le persone che ne hanno bisogno, ma soprattutto per ricordare all'uomo che ciascuno di noi deve fare un'opera di demolizione di tutti i propri vizi, di tutte le proprie passioni, un'opera di ridimensionamento fino all'azzeramento completo del proprio io, dell'io più funesto che c'è dentro di noi, quello che impedisce la visione divina. È appunto proprio come la cenere, raggiunto lo stadio che riveste la stessa cenere, cioè uno stadio chimico in cui non c'è più decomposizione, come la cenere anche noi, raggiunto lo stadio della distruzione dell'io, non siamo più decomponibili, siamo immortali nel vero senso della parola, siamo in piena coscienza divina. Questo è uno dei significati che mi ha colpito di più nella distribuzione che frequentemente fa Sai Baba dei Vibuti. Vorrei chiedere ancora qualcosa a te Giancarlo, tu sei medico, la Vibuti ha un effetto terapeutico? Hai fatto mai analizzare la Vibuti? Cosa ci puoi dire in aggiunta? Noi tutti abbiamo visto scaturire questa cenere dalle dita di Sai Baba, là dove prima non c'era niente improvvisamente compare questa polvere che di per sé non possiede nessuna proprietà farmacologica, io l'ho fatta analizzare all'Istituto di Chimica dell'Università di Parma e risulta essere soltanto cenere, quindi sprovvista di attività farmacologica, però possiede delle strane, misteriose virtù terapeutiche che ci vengono confermate da più parti. In genere sono i malati, quelli che assumono la Vibuti, qualcuno l'applica sulla parte dolente, sulla parte ammalata, qualcun altro la ingerisce quotidianamente. Bene, io ho seguito in questi anni diversi ammalati che assumevano quotidianamente questa polvere strana e ho notato delle guarigioni, delle guarigioni inoppugnabili, documentate, ho visto guarire delle sclerosi a placche, ho visto guarire dei morbidi Parkinson, ho visto guarire dei cancri disseminati, cioè ho visto guarire dei mali dichiarati incurabili dalla scienza ortodossa. A questo punto il medico che cosa fa? Avanza un meccanismo psichico, avanza la sua ipotesi ragionevole e accettabile. Noi tutti sappiamo che qualsiasi gratificazione va a determinare un aumento delle difese, un aumento del sistema immunitario. Il sistema immunitario di difesa viene esaltato e quindi la malattia viene neutralizzata. Al contrario la depressione, lo stress va a determinare una depressione dello stato immunitario, cadono le difese organiche e quindi i virus, le tossine e i batteri possono entrare nell'organismo, attecchire e determinare la malattia. Il contatto con un personaggio carismatico può far scattare questo meccanismo cerebrale, quindi esaltare il sistema immunitario e portare così a guarigione una malattia dichiarata incurabile. Recentemente una nostra amica aveva un tumore cerebrale che aveva determinato una sintomatologia molto ricca e drammatica, l'astenia, la stanchezza profonda, la cecità da un occhio. È andata ugualmente la Sai Baba, Sai Baba l'ha ricevuta e le ha detto ti guarirò. I giorni passavano, la donna stava sempre più male, ma due ore prima di rientrare in Italia Sai Baba la riceve di nuovo e dice non ti preoccupare, il tuo cancro sparirà. Ma la donna disperata insiste guarirò quando io sto male, sto veramente male, allora Sai Baba applica la mano sull'occhio cieco e dice da questo momento il tuo cancro è sparito perché questa è la mia volontà. Da quel momento la nostra amica ha cominciato a vedere, sta bene, ha ripreso continuamente e il suo cervello non presenta più le devastazioni che erano state provocate da questo tumore cerebrale. L'evento è abbastanza recente, della settimana scorsa ed è abbastanza sconvolgente, tanto che io stesso medico mi trovo a dovere fare pubblica ammenda, io che sostenevo il meccanismo psichico delle guarigioni miracolose e di fronte ad una guarigione del genere dichiaro che ci troviamo di fronte ad una realtà che non potremo mai spiegare. Sai Baba guarisce istantaneamente, può guarire a distanza attraverso la vibuti e può produrre anche delle strane guarigioni attraverso dei sogni, ma di questo ne parleremo più avanti. A proposito abbiamo parlato di guarigioni, vorrei chiedere un'altra cosa Francesco, come mai Sai Baba che è buono ed è disponibile per tutti, guarisce alcune persone e non ne guarisce altre, in base a che cosa fa questa? Ma questa è una domanda complessa, si può scrivere un'enciclopedia su questo, e questo ha a che fare sulla nostra matrice del destino che abbiamo dentro di noi, dobbiamo porci una domanda di fondo, che cos'è questo mondo? Ci sono 5 miliardi di persone, questi 5 miliardi di persone sono uno alto, uno basso, uno grasso, uno magro, uno muore a 60 anni, uno 90, uno 5 anni, uno 10 anni, uno al cancro, uno non lo ha, poi uno ha i figli mongoloidi, uno ha i figli spastici, uno ha grandi disgrazie, uno non le ha. Ma perché tutto questo? Da che cosa è provocato tutto questo? Nel mondo occidentale non c'è una risposta precisa, io l'ho trovata in India questa risposta, ed è la risposta che c'è una causa e effetto a tutto quello che facciamo. Tutte le azioni che io compio hanno insito una causa che darà effetto a qualcosa in una mia vita futura e in questo momento io sono l'effetto di vite passate. Perciò quando Sai Baba si trova davanti a un essere umano che deve essere guarito, Sai Baba tiene conto delle leggi carmiche, perché nel 1976 dei giornalisti di Blitz hanno fatto una domanda a Baba e gli hanno detto Sai Baba perché non cambi tutto in tre mesi? E Sai Baba ha detto due risposte molto precise, se cambiassi tutto in tre mesi nessuno capirebbe niente, fra tre mesi ritornerebbero ancora all'egoismo e alla cattiveria, prima cosa. Poi a che cosa servirebbe cambiare e stare tutti bene e che cosa imparerebbero? Poi terza cosa, ha detto ci sono delle leggi carmiche in cui il buono riceve dei benefici, il cattivo riceve dei benefici, tutto si paga e queste leggi vanno osservate, se no avrebbe il caos. Vi premetto che anche nell'Antico Testamento ci sono queste cose in cui queste città come Sodoma e Gomorra vengono distrutte a causa del comportamento dei loro cittadini. A proposito delle guarigioni vorrei chiederti ancora una cosa, queste guarigioni come avvengono? Anche a distanza o è necessario andare? No, no, vengono a distanza perché Sai Baba ha detto una cosa molto precisa, sempre in questa intervista con Birgis dice, io sono il polo positivo, il malato è il polo negativo, quando il suo amore sale a mettersi a pari al mio amore può guarire, cioè noi dobbiamo amare Dio, in questo punto non è neanche necessario amare Sai Baba perché uno è devoto di Gesù, se uno riesce ad avere un amore tale per Gesù o per il Buddha o per Allah, uno arriva a avere il polo negativo, il polo positivo equiparati e a poter guarire. In effetti Sai Baba dichiara, l'artefice della tua malattia è la tua psiche, la tua psiche ti fa ammalare, la tua psiche ti fa guarire, io sono soltanto la matrice d'amore sulla quale opera la tua psiche, sono la matrice che fa scattare questo meccanismo. Sai Baba però dimostra immediatamente delle capacità sovranaturali, in che senso? Prima di tutto con la psicodiagnosi, un dentista si presenta da Sai Baba e dopo aver dialogato con lui, Sai Baba gli dice quando vai a casa fai un check up, il dentista torna a casa, si sottopone a un check up che non mette in risalto nulla, l'anno successivo è ancora da Baba e Baba ancora una volta lo invita a fare un check up, ma dice il dentista io mi sono sottoposto a tutte le indagini, ma non è risultato nulla, dice vai a casa e riprova di nuovo il tutto. Il dentista si sottopone ai vari accertamenti, l'ultimo accertamento è quello neurologico, ma non risulta niente di patologico, ne parla allora con il collega neurologo e questo, prudente, lo sottopone ad un attack e l'attack cerebrale mette in risalto un tumore grosso come una ciliegia. Se Sai Baba riesce a penetrare nell'intimo dei nostri tessuti riesce anche a sconvolgerli, a rigenerarli, può intervenire attraverso quello che noi chiamiamo chirurgia astrale, che cosa vuol dire? Vi porto alcuni esempi per chiarire il concetto. Un biologo ha un cancro del naso faringe, una notte sogna di vedere vedere Sai Baba entrare nella stanza, il quale con un bisturi apre la lesione, asporta il tumore e se ne va. Questo è il sogno, al mattino il devoto si sveglia e trova le lenzuole insanguinate, si guarda allo specchio, c'è una grossa cicatrice là dove c'era il tumore che è sparito definitivamente. Una signora presenta un cancro della mammella, sogna che Baba interviene per asportare il tumore, al mattino scopre le lenzuola sporche di un liquido nerastro e ha una grossa cicatrice nella regione mammaria, si sottopone alle indagini del caso e il tumore anche in questo caso è scomparso del tutto. Nel momento in cui Sai Baba dichiara che è la nostra psiche che ci fa ammalare, la nostra psiche che ci fa guarire, il medico, lo scienziato è soddisfatto perché Sai Baba non fa altro che confortare l'ipotesi che le guarigioni miracolose altro non sono se non il risultato di un nostro meccanismo psichico. Ma a un certo punto lo stesso Sai Baba fa crollare la nostra ipotesi e la sua stessa dichiarazione nel momento in cui materializza un po' di cenere, la pone in una scatoletta, la dona a un devoto e dice prendine un pochettino tutti i giorni e non ti preoccupare perché questa cenere verrà rigenerata all'infinito. In effetti questa cenere viene rigenerata tanto che per anni quella paziente assume la cenere e la scatola rimane sempre piena. A questo punto cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che quella cenere priva di qualsiasi azione farmacologica in realtà trasporti un messaggio, trasporti un'informazione destinata al cervello per mettere poi in moto il meccanismo della guarigione. Io direi se siete d'accordo di interrompere un attimo e di mandare in onda il filmato così vediamo Sai Baba ancora per dieci minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo essere stati ricevuti da Sai Baba per la seconda volta nel giro di tre giorni ci ritroviamo a meditare nel piccolo tempio del villaggio di Puttaparti là dove un tempo sorgeva la misera abitazione del maestro. E lì succede qualcosa di misterioso e di insondabile. dal pavimento compreso tra i miei piedi e le ginocchia di un filippino comincia a scaturire l'avibuti, la cenere simbolo della sacralità del maestro, l'alfa e l'omega e il principio e la fine di tutti i desideri. Dopo aver stabilito che la cenere non cade dal soffitto, puliamo ripetutamente le mattonelle per verificare con più scrupolo. Non c'è alcun dubbio, la cenere scaturisce dal pavimento o da una dimensione invisibile e impercettibile ai nostri organi sensoriali. Dieci, quindici puntini germogliano in altrettanti mucchietti. Si sta materializzando l'avibuti? Si sta materializzando l'avibuti. La prima spiegazione che ci diamo è quella del fenomeno psicocinetico generato dalla nostra psiche esaltata dall'incontro ripetuto con Sai Baba. Il custode interrogato riferisce che nel piccolo tempio il fenomeno non si è mai verificato prima e che va inteso come un segno di Baba che vuole dimostrare la sua presenza e la sua protezione. Quella dell'avibuti è la materializzazione più frequentemente operata da Sai Baba. La cenere viene materializzata e donata per gratificare, consolare, guarire. Analizzata presso un istituto di chimica dell'università, risulta essere solo e soltanto cenere, quindi sprovvista di qualsiasi attività farmacologica, eppure le sue virtù terapeutiche misteriose e insondabili vengono confermate da più parti. L'effetto placebo che abbiamo ipotizzato nel prendere in considerazione le guarigioni provocate dall'assunzione di vibuti crolla nel momento in cui ci si rende conto che questa cenere può rigenerarsi spontaneamente all'infinito, quasi trasportasse un'informazione che va al di là del tempo e dello spazio. Pur tuttavia Sai Baba avverte, la paura è la causa principale delle malattie. La tua psiche ti fa ammalare, la tua psiche ti fa guarire. Io sono soltanto il catalizzatore, la matrice d'amore sulla quale scocca la scintilla che mette in moto il meccanismo. Qualunque sia il meccanismo in causa, una cosa è certa. Sai Baba tocca un paralitico e il paralitico cammina. Tocca lo spastico grave e il suo destino già inciso nella matrice del tempo viene drammaticamente sconvolto. Gli storpi camminano, i paralitici si alzano, i ciechi vedono e la mente corre alla terra di Galilea. Iniziamo a fare la campuzione. Ogni spazzia. Votre da di Maria d'Avaya. Gli storpi camminano. Viviamo a fare la campuzione dihua. E' una miniera scusأ. Votre da di Maria d'Avaya. Si vediamo l' advogazione, vi vediamo. Se vediamo la prima dopo, vi vediamo la prima dopo. Votre da di Maria d'Avaya. Va a fare la prima dopo, vi vediamo la prima dopo. Musica Gli occhi di Sai Baba penetrano nell'intimità dei tessuti per diagnosticare mali non altrimenti decifrabili. Il nostro organismo si presenta alla sua mente come un libro aperto sul quale cancellare, annotare, modificare. Rispondendo ad una mia domanda, Sai Baba dichiarò La divinità si esprime attraverso la mia mano con la quale posso creare qualunque cosa senza limite alcune. Io sono Dio, ma anche tu sei Dio. L'unica differenza tra te e me è che io so di esserlo e tu non lo sai. Quando tu scenderai dentro te stesso nel silenzio e imparerai a conoscerti in quel momento conoscerai Dio e tutto ti sarà possibile. Sai Baba compara all'improvviso a distanza di migliaia di chilometri e lascia delle tracce inoppugnabili del suo passaggio. Gli attributi divini sono racchiusi in quel corpo. Non lasciatevi ingannare da questo corpo, avverte però Sai Baba. Questo corpo ha soltanto la funzione di farsi vedere e toccare da voi. Al di là però esiste la suprema realtà che è discesa per voi unicamente per amore. L'uomo che vedete alla destra di Sai Baba è un americano che è stato rianimato dopo aver assaporato la morte. La rianimazione del cadavere o ressurrezione del corpo è un evento irragionevole per lo scienziato. Esistono tuttavia testimonianze che ho raccolto direttamente per documentare quattro rianimazioni di cadavere. Un fisico nucleare, un primario ospedaliero, un cardiologo ed un avvocato hanno assistito ad almeno una delle quattro ressurrezioni operate da Sai Baba. Il fisico nucleare era presente alla rianimazione del cadavere del signor Radha Krishna che ormai morto da tre giorni in piena estate aveva già in atto i processi della putrefazione a tal punto da costringere gli individui che abitavano lo stabile all'interno dell'ashram ad abbandonare il caseggiato. L'americano visse ancora un anno Radha Krishna visse ancora sette anni. Nel mondo sopranaturale di Sai Baba tutto può accadere. I suoi quadri si ricoprono spontaneamente di vibuti lasciando scoperto soltanto il volto del maestro. Due medagliette smaltate materializzate da Sai Baba per un devoto di Mysore generano senza sosta da circa vent'anni Amrita, il nettare dell'immortalità. I dubbi sull'autenticità del fenomeno crollano quando una medesima medaglietta viene trasferita direttamente da una mano all'altra per quattordici volte e nel cavo di ogni mano si raccoglie mezzo cucchiaio di nettare. Quando la produzione di Amrita sembra insoddisfacente basta ripetere il nome del Signore per vedere il nettare fuoriuscire con un flusso più abbondante. La generazione di Amrita pare essere in rapporto ai livelli energetici o di coscienza raggiunti dall'individuo che in quel momento tocca le medagliette. Anche il calco dei piedi del santo di Scirdi non è da meno. Da vent'anni genera Amrita senza sosta per la protezione del devoto. La presenza del Salvatore annunciato dalle profezie e atteso dalle grandi religioni del mondo traduce le nostre incertezze in uno stato di consapevolezza. Il sorriso torna a risplendere. Uno scena di luce avvolge ora l'intera umanità. Riprendiamo la nostra chiacchierata e vorrei subito sentire Don Mario. Mi sono posta spesse volte questa domanda e vorrei sottoportela. Che difficoltà ha trovato, ha incontrato un uomo, un personaggio cattolico nel riconoscere Sai Baba, questo personaggio misterioso, questo Messia? Che difficoltà può incontrare anche, certo, perché la difficoltà permane. Sicuramente è un problema di pregiudizi fondamentalmente. Qui siamo di fronte a un fenomeno completamente nuovo che sconvolge la vita di tutta un'umanità e alla quale bisogna arrendersi perché non si può sempre dire no a una cosa semplicemente perché cambia le cose in cui si è sempre creduto. Galileo ha supplicato i cardinali a voler cortesemente guardare nel cannocchiale per rendersi conto di persona che la Bibbia, come l'avevano interpretata loro, veniva smentita. E cioè non era il sole che girava intorno alla terra, bensì il contrario. Era la terra che girava e gira intorno al sole. Ma le sue suppliche non furono accolte. E qui vorrei, insisto, come ho fatto nella prima trasmissione, insisto su questa supplica che rivolgo a tutti coloro che vedendomi come sacerdote penseranno sicuramente è un sacerdote fuorviante, è uno che ha perso la testa, che non sa quello che dice. Ecco, io vorrei semplicemente pregarvi di voler guardare all'interno del cannocchiale con i propri occhi, soprattutto con occhi puliti, con occhi puri. E puri nel senso di occhi che hanno rinunciato al pregiudizio. Noi, soprattutto noi cattolici, siamo abbastanza carichi di pregiudizi. I pregiudizi dottrinali, i pregiudizi scientifici che provengono dalla nostra stessa teologia. Non siamo disposti ad abbandonare nulla di quello che ci è stato insegnato proprio perché questo smuoverebbe a tal punto le nostre convinzioni e noi non vogliamo cambiare nulla della nostra vita perché vogliamo dormire sonni tranquilli. Forse, sai Baba, è il caso di dirlo, viene a disturbare il nostro sonno, la nostra pigrizia per dirci è ora che ti svegli, è ora che ti renda conto di quello che veramente sei. Uno dei grandi pregiudizi teologici proviene soprattutto direi dall'equivoco che nasce sul termine unigenito. Si parla dell'unigenito come di un'unica incarnazione. Così si crede almeno, così si dice, si insegna. E allora il cattolico che va a Prasciantirin, che va quindi in questa dimora di pace, che va da Sai Baba, dice non può essere un'incarnazione divina perché mi è sempre stato insegnato che Dio si è incarnato una volta sola in Gesù Cristo. Questo Gesù Cristo è proclamato da tutte le nostre scritture come l'unigenito. Mentre dimentichiamo che quando recitiamo il credo, diciamo, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Cioè l'unigenito è colui che è nato dal Padre prima di tutti i secoli, non è il Gesù di Nazareth. Che poi il Gesù di Nazareth si sia identificato con questo unigenito è un altro paio di maniche. E in questo sta la grandezza del messaggio di Cristo. Questo è uno sicuramente dei pregiudizi più gravi che condizionano la mente di un cattolico e quindi si sente impossibilitato a credere che il Divino possa prendere forma umana. Ecco, io vi pregherei di abbandonare per un momento tutte le convinzioni di partire da zero come se fossimo due buoni amici che non ne sanno niente. Dimenticate il fatto anche che io sia preta e che abbia studiato teologia. E poniamoci questo problema nel nostro concetto. Dio, se è veramente onnipotente, se è veramente capace di tutto, se ha tutte le possibilità, noi a questo Dio possiamo proibire di incarnarsi nelle forme che vuole e in tutti i tempi che vuole? Questa è una domanda che pongo a chi mi ascolta. Mi pare che la tua risposta sia stata molto interessante. Ora vorrei però riproporla al Dottor Rosati come uomo di scienza. Tu, come hai fatto a riconoscere in Sai Baba il condottiero spirituale della nostra epoca? Io ho una mente analitica e quindi sono stato costretto ad affondare il mio bisturi più in profondità. E così, negli antichi testi sacri, ho scoperto che questi grandi condottieri spirituali, le incarnazioni divine, dovevano portare con sé alcuni segni ben precisi per essere riconosciuti. Quali erano questi segni? Innanzitutto dei segni cutanei che dovevano comparire necessariamente sulla parte sinistra del corpo, in secondo luogo i kalas, cioè gli attributi divini e infine dovevano essere annunciati dalle grandi profezie. Bene, i segni cutanei sono un neo sulla guancia sinistra e un garuda sull'emitorace sinistro. Il garuda è un'acquida, un segno divino. Bene, Sai Baba ha un neo sulla guancia e ha un garuda sull'emitorace sinistro. Questi condottieri devono possedere, ho detto, anche i kalas, cioè gli attributi divini, vale a dire il completo controllo delle facoltà psichiche, il controllo assoluto sul corpo fisico, il controllo su tutti gli elementi della natura, vale a dire ogni potenza, ogni scienza, onnipresenza. Bene, Sai Baba ha la capacità di controllare la psiche, la propria psiche e la psiche degli altri, legge il vostro passato e il vostro futuro, legge nei vostri pensieri, ha la capacità di affondare i suoi occhi all'interno del vostro organismo, ha la capacità di frenare la furia della natura, ci sono molti esempi e non abbiamo il tempo per portarveli, ha la capacità di controllare il corpo fisico al punto da determinare guarigioni istantanee e di prolungare persino la vita. Non ci siamo accontentati, allora siamo andati a spulciare nelle religioni più importanti se esistevano delle profezie che annunciavano questo grande condottiero e in effetti la discesa di questo grande condottiero viene annunciata per la fine di questo nostro millennio. I testi indule Upanishad avevano già annunciato la discesa dell'incarnazione di Dio nel villaggio dei Coni, Puttaparti che è il villaggio dove è nato Sai Baba significa appunto il villaggio dei Coni e il nome fa riferimento al tempo in cui il villaggio venne invaso dai Termitai. Si racconta in questi testi sacri si racconta la vita e la missione di questo maestro la famiglia presso la quale si sarebbe incarnato e la sua morte a 96 anni. 3200 anni fa lo Sciucanadi un'analisi astrologica scritta su papiri prevedeva la discesa di questo condottiero descriveva l'albero genealogico della famiglia il villaggio in cui sarebbe nato e addirittura tutti i miracoli che avrebbe compiuto prima dell'anno 2000 e dopo l'anno 2000 ma avviciniamoci un pochettino di più alla nostra cultura e troviamo San Giovanni San Giovanni nella sua Apocalisse che cosa dice e vidi il cielo aprirsi ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalca si chiama il verace e il fedele veste una tunica color del sangue e conduce delle truppe vestite di bianchi lini bene Sai Baba viene registrato all'anagrafe con il nome di Satya Narayana Satya vuol dire in sanscrito verità Narayana vuol dire colui che risiede fedelmente nel cuore degli uomini in altre parole Satya Narayana vuol dire il fedele e il verace i nomi corrispondono a quelli previsti da San Giovanni veste una tunica color del sangue a volte rossa a volte arancione ma preferisce quella rossa e guida delle truppe vestite di bianchi lini che sono i suoi studenti e i suoi devoti che necessariamente si presentano all'ashram vestiti di bianco ma andiamo avanti ritroviamo le stesse profezie nell'oceano della luce l'oceano della luce è un'opera grandiosa in 25 volumi scritti in arabo e raccoglie le dichiarazioni del profeta Mahometto Mahometto al volume 13esimo che porta il titolo del grande condottiero El Madi Mahud fa una descrizione fotografica di questo grande condottiero dice la sua chioma sarà come una corona la fronte allargata i denti separati avrà il dorso curvo lo stomaco ampio indosserà due abiti color della fiamma materializzerà con la sua mano piccoli oggetti che donerà ai devoti non porterà mai la barba continua la descrizione del suo corpo fisico e dice vivrà fino a 95-96 anni Mahometto è molto preciso perché dice 95-96 anni perché secondo il calendario indiano Sai Baba vivrà fino a 95 anni secondo il nostro calendario vivrà fino a 96 anni per un motivo molto semplice gli indiani cominciano a calcolare il primo anno di nascita dal primo giorno di vita noi lo facciamo 12 mesi dopo se ci avviciniamo ancora all'interno della nostra cultura vediamo che nel 1935 quello che sarebbe diventato poi Papa Giovanni XXIII Roncalli aveva fatto delle previsioni e parla di un grande santo scalzo che in India predica anche per il Papa cristiano da lui dice Papa Giovanni verrà al mondo un nuovo ordine di cose la descrizione è molto precisa e qualunque lettore potrà identificare nel santo scalzo il condottiero spirituale che oggi vive in India ecco io ho cercato di analizzare questo personaggio prima di accettarlo fino in fondo proprio perché è la mia mente analitica che mi spinge a fare questo ci saranno delle persone che potranno accettare Sai Baba proprio perché hanno già un livello di coscienza tale che consentono di recepire immediatamente il messaggio senza spulciare senza analizzare senza verificare io sono stato costretto a farlo io vorrei aggiungere una cosa cioè quando si entra in contatto con Baba si capisce immediatamente che c'è in lui ogni scienza ogni presenza e ogni potenza questi sono proprio i simboli del divino i poteri del divino poi Sai Baba fa anche una cosa meravigliosa dice cose come questa non siate devoti di questo mio piccolo corpo ma siate devoti dei miei insegnamenti tutte le forme sono mie andate oltre tutte le forme andate all'assoluto e qual è l'insegnamento base di Sai Baba quello pratico dice con parole semplici umili fantastiche vedi bene pensa bene senti bene parla bene agisce bene questa è la via per dire ecco questo è davanti a questi esempi a queste cose a questa esperienza vissuta per sei anni costante prova di queste cose non ci sono dubbi vorrei fare un'altra domanda a Don Mario mi pare di aver capito dalla puntata precedente che ognuno di voi dopo aver recepito il messaggio di Sai Baba si è riavvicinato alla religione cattolica ha cercato di esaminare meglio il messaggio cattolico vorrei chiedere proprio a te personalmente che cosa arricchisce questo messaggio di Baba che cosa ha arricchito della tua conoscenza della religione cattolica ti ringrazio di questa domanda perché la posso integrare dicendo anche che Sai Baba ha in qualche modo mi ha aiutato a riscoprire la bellezza e la profondità del mio sacerdozio che forse purtroppo per le varie vicissitudini che uno vive nella vita uno finisce anche per perdere finisce per perdere di vista io sono grato a Sai Baba per me è il più grande amico che abbia mai potuto incontrare in questa vita sono grato a Lui proprio perché mi ha insegnato a ritrovare quello che in qualche modo avevo perso oppure avevo lasciato che si coprisse di tenebre che cosa dà Sai Baba alla religione cattolica al cristianesimo o a tutte le religioni vorrei dire la malattia più grave che noi stiamo soffrendo che l'umanità sta soffrendo in questo momento è la mente è lo stato mentale in cui appunto l'uomo riconosce la sua più terribile deformità e la sua più grave malattia Sai Baba lavora proprio all'interno della mente ci aiuta ci insegna a lavorare sulla mente a cambiarla prima era stato detto che dal dottor Rosati che appunto la malattia dipende proprio da uno stato mentale e questo anche i medici mi pare siano arrivati a riconoscerlo si parla infatti di malattie psicosomatiche sempre di più Sai Baba suggerisce alcune cose molto interessanti suggerisce fondamentalmente due due metodi per guarire la mente la meditazione ed ha una tecnica molto particolare molto molto bella anche molto simpatica che salva e conserva la propria devozione alla figura divina in cui uno crede maggiormente uno può meditare sulla figura del sacro cuore può meditare sulla figura di Krishna può meditare sulla figura di Buddha su quello che più gli piace e la preghiera costante cose che sono sempre state insegnate anche da noi anche nel cattolicismo ma che sono andate perse e in questo sta l'originalità del messaggio di Sai Baba in 2000 anni il cristianesimo ha permesso o meglio gli uomini hanno permesso che in 2000 anni nel cristianesimo si formassero delle incrostazioni delle sovrastrutture che hanno ottenebrato l'originalità del messaggio Sai Baba fa un'opera di diciamo di pulizia e suggerisce appunto delle tecniche particolari per raggiungere il pieno potenziale della propria mente mi pare che la tua risposta sia stata molto completa e molto significativa passerei un attimo la parola al dottor Rosario vorrei dire una cosa la prima volta che sono andato da Sai Baba Sai Baba mi ha detto tu sei Dio io sono Dio e so di esserlo tu sei Dio e non lo sai l'unica differenza tra noi è proprio questo questa dichiarazione mi ha lasciato un po' sconvolto perché nessuno mi aveva mai detto che anch'io ero Dio poi spulciando dei Vangeli gnostici questi Vangeli che sono stati scoperti recentemente nell'Alto Egitto ho trovato una frase nel Vangelo di Tommaso che dice attribuita naturalmente a Gesù Tommaso e Filippo erano stati autorizzati da Gesù a raccogliere le sue dichiarazioni Gesù dice il regno dei cieli è dentro di voi scoprite voi stessi e smuoverete persino le montagne e nel momento in cui noi ci rendiamo conto di questa realtà non abbiamo alternative dobbiamo soltanto cercare di realizzare questo nostro io interiore questa scintilla divina che è dentro di noi e l'unico modo l'unico sentiero per raggiungere questo grande traguardo è l'amore l'amore per tutto e per tutti abbiamo visto nei filmati e ne abbiamo anche parlato delle materializzazioni di Sai Baba abbiamo visto materializza la Vibuti ma materializza anche tanti oggetti per i suoi devoti vorrei sapere da te qual è il significato di queste materializzazioni il significato varia sicuramente a seconda della persona che riceve la materializzazione interpreta e avvicina diciamo questo fenomeno il fenomeno della materializzazione in Sai Baba è molto frequente ed è impossibile pensare che egli sia un mistificatore un imbroglione in questo campo perché le sue materializzazioni oggetti preziosi diamanti collane di perle statuine di oro massiccio probabilmente questa stanza non basterebbe a contenerle tutte quindi è impossibile che uno tragga dal nulla tutte queste cose a scopo di lucro o per altro scopo un giorno si narra che persino l'oceano che lambiva con le sue onde i piedi di Sai Baba lasciò ai suoi piedi una bellissima collana di perle perché fa queste materializzazioni in verità una delle cose che mi colpiva di più quando io avevo letto qualcosa di Sai Baba erano proprio queste materializzazioni e mi domandavo perché scende così nel banale dicevo perché fa degli oggetti a che serve ho dato a me stesso una risposta un'interpretazione Sai Baba forse l'ha suggerito lo stesso Sai Baba Sai Baba è come se ci dicesse voi uomini del ventesimo secolo amate tanto l'oro amate tanto il diamante amate tanto il denaro guardate come è facile materializzarlo seguite dunque le cose più importanti quelle per le quali si fa più fatica ma che durano di più Direi che questa è una buona lezione per tutti vorrei adesso che Francesco ci raccontasse qualche storiello qualche aneddoto perché ho sentito molte delle tue storielle mi hanno aiutato ad avvicinarmi a questo personaggio e a conoscerlo meglio per cui ti sarei grata se nel poco tempo che ci resta ci raccontassi una storiella ne so talmente tante che sono imbarazzato ma quella che viene prima alla mente è quella di Gustav un medico tedesco è rimasto lì un po' di tempo e un giorno Baba lo chiama in un'intervista e gli dice come dormi di notte e Gustav rimane sterefato dice come il Messia l'Avatar mi domanda come dormo di notte ma non sapeva cosa dire allora dà una risposta così e Baba lo guarda come per dire ma non mi hai risposto giusto allora Gustav dice sì dormo male e Baba dice perché? e Gustav dice ma sai ci sono dei moschini che di notte alle tre e mezza mi svegliano mi danno fastidio e Baba dice non moschini non zanzare una zanzare e Gustav rimane sterefato e Baba dice ma tu cosa fai? e Gustav dice eh sì io faccio così e Baba dice no non devi far così mi fai male perché sono io che ti vengo a svegliare per farti fare meditazione approfittiamo degli ultimi cinque minuti per chiedere anche al dottor Rosati se ci può raccontare un aneddoto io vorrei raccontare una storiella simpatica il discepolo di un guru si isola e per undici anni pratica degli esercizi yogici per raggiungere un determinato traguardo undici anni dopo incontra di nuovo il suo maestro e dice guarda maestro che cosa sono riuscito a realizzare in questi undici anni e attraversa il fiume camminando sulle acque il maestro osserva aspetta che ritorni e poi dice sei proprio uno sciocco hai impiegato undici anni per attraversare il fiume quando con due centesimi potevi prendere il traghetto e andare a venire ci so che ne sapete tantissime di queste storielle di questi aneddoti però penso che il tempo a nostra disposizione ormai stia per terminare per cui vorrei ringraziare voi per la partecipazione io avrei ancora mille domande da farvi però mi propongo penso che ci potremmo riproporre tutti di ritrovarci e di riparlare ancora di questo personaggio molto significativo e ci rivedremo la prossima settimana buonasera grazie a tutti 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 grazie a tutti